Buona e santa serata a tutti voi. Grazie, grazie di cuore per quanti sapendo che oggi è la mia festa onomastica perché io essendo calabrese porto il nome di San Francesco di Paola, grande, grandissimo santo. No, chi conosce la figura di San Francesco, chi ha presente anche la sua statua, c'è questo grande stemma con la scritta Caritas perché San Francesco ha fatto della carità, cioè dell'amore per il Signore, per i fratelli, il suo stile di vita, carità, umiltà e preghiera. Anzi, lui era così umile che volle fondare i minimi perché si sentiva anche indegno di essere un figlio di Francesco d'Assisi, quindi ancora di meno piccoli dei piccoli, tra i più piccoli minimi. La sua storia è bellissima, grandi miracoli, grandi gesti, grandi prodigi, ma soprattutto grande amore e grande taumaturgo. Allora, questa sera vorrei in modo particolare affidarvi alla intercessione di San Francesco da Paola, ma anche all'intercessione di San Giovanni Paolo II. Lo sapete, la sera del 2 aprile del 2005 ci lasciava su questa terra il grande Papa Watigua e nasceva in cielo. Vi ricordate durante i funerali gli striscioni, i cartelloni, santo subito, no? Una cosa mai vista prima, ma nel cuore della gente questo Papa così innamorato di Maria, tutto tuo sono Maria, tutto tuo sono Maria, è questo Papa che gira il mondo e ama. Papa protetto dalla Madonna, vi ricordate, il 13 ottobre, il proiettile. Quindi, ecco, questa sera abbiamo davvero due santi che vegliano su di noi e li invochiamo, San Francesco da Paola e San Giovanni Paolo II. E così anche noi ci segniamo con il segno della croce e preghiamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amin. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amin. E rivolgiamoci anche alla Madonnina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amin. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amin. Preghiamo anche il nostro Angelo Custode, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amin. E per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dono al loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amin. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amin. Santa Notte a tutti. Se Dio vuole ci vediamo domani. Un abbraccio a tutti, a tutte le vostre famiglie, a tutti voi cari, in special modo agli ammalati, agli anziani, ai bambini. Vi voglio bene. Ciao. Buonanotte. 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 Buonanotte.